Anticipazioni, Endless Love, il sacrificio di Asu e la battaglia per Nian. Nel turbinio degli eventi del pianeta, Endless Love, le vie del destino si contorcono in un dramma inaspettato e coinvolgente. Asu, consumata dall'invidia e dal risentimento, prende una decisione fatale che scuoterà le fondamenta delle vite intrecciate in questa saga d'amore e odio. Asu, incapace di accettare la riconciliazione tra Kemal e Nian, calcando il ruolo di antagonista, compie un passo che sfida i limiti della moralità. In preda a una fiamma di rabbia cieca, assolda un sicario con il compito di sabotare l'automobile di Nian, una mossa vile che ha intenzione di scrivere la fine della sua rivale in amore. La misfatta di Asu getta Nian in un incubo ad occhi aperti. La combinazione di freni manomessi, velocità e un manto stradale traditore coperto di ghiaccio, diviene il palcoscenico di un terribile incidente. Kemal, testimone impotente del disastro, si ritrova di fronte all'immagine che mai avrebbe voluto vedere. Un ospedale, due nemici, una vita in bilico. L'atmosfera nell'ospedale è elettrica, e Mir e Kemal vi confliggono, portando al culmine una tensione che va oltre la tragedia comune. La presenza di Kemal, è un focolaio di ira per Emir, che non può contenere il proprio disappunto e la situazione degenera. La loro rissa, un breve ma intenso dimenticare di Nian che altrove combatte la propria battaglia più dura, quella per la vita. In quest'ora più buia per Nian, la salvezza viene da un angolo inaspettato. La situazione ospedaliera è critica, le scorte di sangue sono all'orlo dell'esaurimento, e le speranze per trovare donatori sono appese a un filo. Tuttavia, la luce appare nello spirito altruista di Zeynep, che, nonostante i complessi e dolorosi legami che la uniscono a Emir, e il tormento dell'amore non corrisposto, sceglie di porsi come baluardo contro la morte di Nian, e dona il sangue vitale che potrebbe ritorno alla vita. L'abile gesto di Zeynep muove le acque torbide nel cuore di Emir. L'apertura emotiva a lei, vecchia fiamma, rivela le profondità del suo essere. Tutto il mio mondo ruota attorno a Nian. Non posso vivere se le succede qualcosa, un confine tra amore e ossessione, che forse solo ora inizia a farsi nitido agli occhi di Emir. Mentre la narrazione di, Endless Love, continua a snodarsi, spetta ai telespettatori tenersi ben ancorati, pronti a essere catturati dal prossimo colpo di scena in questa storia dove il destino sfida continuamente l'amore e la morte.